O muse, o alto ingegno, ormaiutate. Dante invoca aiuto mentre all'imbrunire si appresta a varcare la soglia dell'inferno. Come può essere degno di una tale impresa compiuta prima di lui da figure della statura di Enea e San Paolo? Virgilio lo conforta. La sua amata Beatrice, assistita da Santa Lucia e dalla Vergine Maria, è scesa dal paradiso per incaricarlo di salvare Dante dalla perdizione. Il viaggio nell'oltretomba è altresì necessario per riportare l'umanità sulla retta via. Dante al fine si rinfranca e decide di affrontare il viaggio assieme alla sua guida. Il secondo canto funge da introduzione alla cantica dell'inferno. È una pausa di riflessione tra la selva e l'ingresso tormentato nei gironi infernali. Pur in assenza di scene spettacolari, la regia dantesca movimenta il racconto evocando le diverse dimensioni del cosmo. Dalla terra dove Dante e Virgilio dialogano prima di accedere agli inferi, si passa al limbo che Beatrice raggiunge per sollecitare Virgilio ad intervenire. Il racconto rievoca anche il paradiso e in particolare il cielo dei beati, sede eterna delle donne benedette. Un motivo ricorrente è la dialettica tra la superbia e l'umiltà dell'autore, che da una parte si appella al suo alto ingegno, dall'altra dubita di essere degno del suo arduo compito. Virgilio rimprovera Dante e lo accusa di viltà. L'anima tua è da viltà de'offesa. D'altronde i dubbi di Dante sono giustificati. L'impresa non è realizzabile senza l'intervento della grazia divina, che infatti si manifesta nelle tre donne benedette, Maria, Lucia e in particolare Beatrice. La donna di virtù, che in questi versi fa la sua prima comparsa nel poema, non è più la bice portinari della giovinezza fiorentina, ma una creatura angelica, in grado di superare i limiti della ragione umana impersonata da Virgilio. In lei, beata e bella, si esprimono le più alte forme dell'amore. Amor mi mosse, che mi fa parlare. Il viaggio della Divina Commedia, argomento dei dialoghi del secondo canto, è l'allegoria del difficile cammino di tutti i cristiani verso la salvezza. Un percorso individuale che passa attraverso la croce, nel caso di Dante la discesa nell'inferno. E non esaurisce il proprio fine nella esperienza mistica della visione di Dio, ma si traduce anche in un effetto salvifico nella storia degli uomini.